Siamo tornati sul luogo del delitto, io e De Luisi, eccoci qua all'aeroporto di Bari dove abbiamo girato la scena del Metal Detector che voi vedrete nel film da stasera. Anche nel trailer. Vogliamo che tu ti avvicini un attimo là? Così facciamo proprio... Ma no, no. No, dici? Aspetta, un attimo. Magari si sgonola. Ma no, magari facciamo... Facciamo proprio vedere bene il Metal Detector in cui abbiamo girato. Adesso, vuoi farti arrestare e andare dentro? No, se corro fortissimo verso di là... Sì, ti do 200 euro. Adesso... Due risate ce le faccio. Sì, se tenti di passare in mezzo tra questo bestione qua, vedi? E quella... Non lo smuoviti. Quanto vuoi? Dimmi quanto vuoi per andare a fare... Ma vorrei che andasse bene il film. Vabbè, ma parte questo. Io ti posso dare 500 euro se tu vai lì adesso. Troppo poco. Perché la figura di merda sarebbe colossale. Appunto. Quindi il compenso non è sufficiente. Però bello sul luogo del delitto così, eh. L'ultima scia del film è qua. Sì. Siamo già in pellegrinaggio sulle scene del film, come se il film fosse un grande classico. Invece magari farà cagare. A me si ampie celebrare. Non si sa bene cosa. Questa è la tipica, diciamo, scaramanzia dell'artista che cerca di... Io lo chiamerei realismo, più che scaramanzia. No, no. Cioè, aspettiamo la prova dei fatti. Non è che sto riprendendo. No, no, lui, lui. Sto riprendendo lui. Ecco, questa è bella, è bellissima. Questo è bellissima. Vado via. Vado via.